L'Erengrat, canale dei signori, è il più interno dei tre canali che compongono il Gracht & Gordel ed è il più maestoso è noto per il gomito d'oro una imponente ma un po' smorta serie di case realizzate per i ricchi mercanti. Il canale centrale è il Kaisergracht canale dell'imperatore che presenta anch'esso una bella serie di case una volta magazzini per lo stoccaggio dell'emergenza Grazie a tutti! Il canale più esterno è il Prinzengracht canale del principe intitolato a Guglielmo il Taciturno caratterizzato soprattutto dalle case galleggianti Sulla sua riva si trova la casa di Anna Frank, oggi trasformata in museo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!